ciao io come scultore di personaggi stilizzati non sono un granché perché prima di tutto non sono un granché come disegnatore di personaggi stilizzati comunque ho voluto fare un esperimento con gris pencil ho realizzato rapidamente un disegno o uno sketch di un personaggio in questo caso ho utilizzato esclusivamente il profilo dopo sono passato a ripassarlo con un segno più pulito ma in ogni caso comunque niente di particolarmente rifinito ma diciamo con pochi segni in maniera tale che poi fosse possibile come vedete in questo momento spostare parti del disegno realizzata in gris pencil nello spazio per posizionarle più o meno dove avrebbero dovuto finire se fossero state tridimensionali quindi in pratica partendo da uno schizzo piatto l'ho spostato nello spazio per dargli la posizione effettiva e usarlo poi l'idea era quella di usarlo come base per scolpire ho quindi cominciato provando a scolpire con gli strumenti di blender devo dire che purtroppo non li conosco benissimo non sono particolarmente in grado di utilizzarli ancora e quindi ho fatto un po di tentativi con risultati che non mi soddisfacevano comunque diciamo sono andato avanti per un po tentando di scolpire con blender poi siccome non riuscivo a essere soddisfatto del risultato ho utilizzato un plugin che serve a esportare da blender e portare dentro zbrush prima però mi è venuto in mente che esiste un altro plugin molto interessante che utilizza grease pencil come base per le sculture ed è quello che vedete in azione in questo momento quindi in pratica si disegna prima una forma con grease pencil e poi il plugin applica dei modificatori modificatore di di solidify che gli da spessore e poi di smooth che lo arrotonda e quindi ho pensato di ricostruire le forme base attraverso l'uso di questo plugin che è molto intuitivo perché siccome alla fin fine si tratta sempre di disegnare con grease pencil risulta molto molto facile poi metterò in descrizione il nome del di questo plugin ho quindi realizzato le forme base in maniera molto approssimativa come fossero dei blocchi e poi adesso vado un po avanti con il video comunque diciamo che questo plugin permette di utilizzare i segni di grease pencil sia come superfici che come diciamo tubi quindi i tubi sono stati utili per le braccia per le dita ma anche per per le unghie e per i denti e quindi ho realizzato le principali forme in questo modo e devo dire che già anche solo con queste forme basilari risultava già piuttosto facile di sicuro era facile modellare però aveva anche delle forme particolarmente gradevoli e semplici con un risultato molto smussato e carino comunque ho proseguito in questo modo e dopo di che appunto nel momento in cui avevo il modello ecco adesso potete vedere che il modello è ad un punto piuttosto avanzato sto facendo solo alcuni dettagli denti eccetera ho provato anche a fare una soluzione di questo tipo per le guance per le sopracciglia inserirle come elementi appunto sovrapposti perché poi all'interno di zbrush vedi ecco portato l'oggetto all'interno di zbrush zbrush ha la funzione di dynamesh che è molto molto potente per fondere diverse diverse forme per cui da lì sono passato a fare delle dynamesh di tutte le varie parti unendo solo quelle parti che volevo fossero unite e invece tenendo staccati come elementi separati gli altri e da lì con gli strumenti di zbrush con i quali ho più dimestichezza è risultato anche piuttosto facile proseguire poi con la scultura ovviamente come dicevo purtroppo non sono non è un granché il design del personaggio né il risultato finale insomma ma il mio tentativo era soprattutto quello di un certo flusso di lavoro quindi il disegno delle forme principali in blender per poi passare a zbrush avendo questa mesh di base molto come una topologia che alla fin fine è venuta molto bene tra dynamesh e remeshing quindi alla fine ho continuato proseguendo con zbrush a dettagliare il la sculturina e dopo di che ho anche fatto un tentativo di colorazione più che altro per vedere se era possibile importarlo dentro blender ed è possibile e anche viene viene piuttosto bene utilizzando ho importato in blender il il modello a bassi poligoni quindi in pratica di tutti gli elementi quello che state vedendo adesso è il remeshing di tutti gli elementi in una versione a bassi poligoni poi la loro suddivisione e proiezione dei dettagli ulteriori quindi al il gli strumenti di zbrush permettono anche facilmente di creare le uv ecco qui per un attimo si sono viste le uv è molto facile con uv master farle al volo se non si ha esigenza di farle particolarmente bene e dopo di che quindi il modello a bassi poligoni con le uv gli ho fatto sopra il baking delle normali e ho provato importare il tutto dentro blender ecco qui ho aggiunto semplicemente dei dettagli sempre dentro zbrush proprio per vedere in blender se potevano essere importati quindi se le normali li mostravano quindi ho proseguito appunto con l'aggiunta di dettagli alla scultura solo appunto allo scopo di vedere il risultato questa è la pittura ho voluto provare anche se era facile importare sia la texture che eventualmente i colori dei vertici è possibile fare entrambe le cose e quindi dopo concluso il lavoro in zbrush c'è questo plugin che si chiama goby che serve semplicemente a portare il gli elementi da zbrush a blender e viceversa e quindi vedete adesso sono all'interno di blender sto provando ad applicare le normali ed effettivamente funzionano quindi in blender ho portato il modello a bassi poligoni con la texture del colore e con le normali il risultato è venuto per cui in pratica si può in blender facilmente avere un personaggio a bassi poligoni che dopo averlo portato dentro zbrush ma che è nato in blender attraverso gris pencil e quindi tra l'altro siccome blender ha anche la funzione molto carina dello sculpt brush è possibile quindi anche ho fatto una prova con lo sculpt brush ed effettivamente funziona al di là che in questo caso le unghie non si spostavano insieme al personaggio però è stato possibile mettere in posa per esempio la coda ho fatto solo degli esperimenti però è un flusso di lavoro possibile che trovo molto molto facile perché appunto il gris pencil è particolarmente facile da usare quindi ricapitolando uno schizzo in gris pencil la sua inchiostrazione in maniera che ci siano pochi segni da spostare le ho spostati nello spazio nel posto dove sarebbero dovuti andare a finire e qui si può già se si ha padronanza con gli strumenti di scultura di blender si può già fare la scultura in blender siccome appunto io non li sapevo utilizzare molto bene ho utilizzato questo plugin che permette di trasformare dei segni di gris pencil in forme e ottenendo quindi delle geometrie molto facili da gestire e anche particolarmente carine per chi ha uno stile cartonistico da lì le ho portate dentro a zbrush in zbrush attraverso dynamesh ho unito tutte le parti che volevo fossero saldate quindi vedete la coscia insieme col corpo mentre ho lasciato separato le braccia rispetto al corpo le gambe rispetto al corpo le unghie i denti e quindi dopo in zbrush è facile utilizzando tutti gli strumenti che mette a disposizione il programma vedete anche qua le guance le unite rifinire la statua si può addirittura appunto facilmente avere gli uv e quindi avendo gli uv i dettagli possono essere realizzati ad altissima risoluzione dentro zbrush e poi trasformati in una normal map eccola qua da importare dentro blender per cui in blender si può avere un modello a bassi poligoni come vedete ne aveva 60.000 quindi gestibilissimo con però le normali del modello ad alta risoluzione e quindi tra l'altro in questo caso qua lo vedete anche coi colori i colori sono una texture come ho ottenuto le normali ho ottenuto i colori ovviamente bisognerebbe fare bene i materiali in questo caso sì il risultato è quello che è però è un flusso di lavoro molto molto semplice che potrebbe essere interessante per chi ama fare personaggi cartunistici possibilmente li fa meglio di me grazie mille e alla prossima volta a Grazie.